E' uno delle sfide grandi che abbiamo per cambiare l'Italia, purtroppo siamo sempre alle presa di tempi, con i tempi, con le autorizzazioni, però parliamo ogni tanto di cose positive, questi 9 chilometri che inauguriamo sono un segnale grande, positivo e credo che più di me lo possa raccontare la gente, le imprese di questo territorio che da anni, se non da decenni, chiedevano la realizzazione della quadrilatera, che allora sembrava un sogno, che oggi è una realtà.